Salve a tutti ragazzi bentornati al canale di Toxic Gamer 88 e oggi siamo qui per l'episodio finale di Dracula X Chronicles Castlevania Allora cominciamo subito per l'ottavo e ultimo livello senza indugi si comincia vediamo cosa ci aspetta Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno seguito questa splendida serie ed è soltanto il merito vostro se questo canale va avanti Ma banda alle chance e cominciamo subito quest'ultimo video Adesso innanzitutto vorrei sistemare le cuffiette perfetto andiamo avanti Salvataggio da panico a inizio gameplay perfetto Ho già spiegato il motivo dei miei continui salvataggi Altrimenti qui la serie dovrebbe durare mille, 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 mille episodi Come avete potuto ben constatare nell'ultimo video ho sclerato come un paccio Ma è normale ragazzi questi sono i tipi di giochi Adesso speriamo che questo livello sia difficile Entro certi limiti Belmont, figlio di Belmont Ho stato aspettato per te Belmont, sono Belmont, yeeeh Regulare, mati ora e lasciare questo mondo Non avvicinare qui Così, rapidi e veloci Come piacciono a me i personaggi Lui mi ha invitato Il tuo stesso tipo mi ha chiamato inizio con grazie e tributo Tributo? Sei un tifo Tu stilisci le sole Il loro libertà La libertà è sempre sacrificata per la fede, buon hunter Lascio a voi la lettura ragazzi E lui parla guardando lì Sarà un dito in culo questo boss, vero? Ok, devo capire come Proviamo così ragazzi Sì lo so, ma Gesù Cristo non aiuta Ok Devo riuscire a capire come fare ad attaccarlo Ok, l'abbiamo capito In testa, in testa Perfetto Riproviamo, riproviamo Vediamo cosa succede Naturalmente skipperò a bestia il filmatino Va bene Così Dove sei? Salviamo così ragazzi Rapidio e veloce Ok Ah, peccato, peccato Dove sei? Forza Ragazzi sto missando a bestia Peccato Peccato Dove sei? Ok, vediamo Questi di qui sono evitabili questi attacchi Basta fare così E me lo trombeggio come voglio Attenzione Questo di qui non riesco a evitare Come vedete non ci riesco proprio Però Lui sta morendo Salvataggio da panico Fino a qui Ah Bruttissima questa Attenzione Spunta Dove sei? Ok Non mi dite che l'ho sconfitto così Veloce B power Ok Ci aprirà il culo Ci farà veramente No male Di più Ragazzi Di più Quindi Proviamo di nuovo così Eh, una parola Una parola Una parola Ragazzi Perché ho salvato in un punto No, brutto Bella cagata Via Solviamo così Vediamo cosa Salviamo qui Vediamo cosa succede Secondo me ce la facciamo Sconfiggerlo Rapidi e veloci B power Arrivo pure io Lo risparmiate fino alla Ma manco per il cazzo Cioè Sconfiggere il boss Con questa misera vita Sarà no Difficile Di più Eh, anche se abbiamo Questo attacco Così Cerchiamo di evitarlo Eh, veramente tosta Sarà veramente 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 Un dito in culo Salvo qui Vediamo Voglio vedere Quanto gli tolgo Eh, una parola Sto cazzo Gli tolgo E ci scafazzo Come si suol dire Qui da lei Ah, è bruttissimo Ragazzi Ma Morire scafazzati Da un mostro È qualcosa che odio Non ce la faremo Non ce la faremo mai Manco per il cazzo Penziano a queste onde Uno Allora 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 Fino a quando Lui salta Ce la possiamo Anche fare Salviamo qui Vediamo cos'è Mi sa che adesso Ci ucciderai In un colpo Ecco Salta Bravissimo Attenzione a questi Uno Ah Però si può sconfiggere Attenzione all'onda energetica Salviamo così Vediamo se ce la faccio Uno Due Mamma mia Miracoli Uh Eh, queste non le riuscirò mai Ad evitare E lo sapevo io Ah Bruttissimo Uno Due Salviamo qui No, 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 no Male Manco Questi non li riuscirò mai Ad evitare Una parola Come li evito questi Manco Ragazzi abbiamo un piccolo problema Tattico Non riuscirò mai Evitare questi attacchi Quindi moriremo Sempre qui Invece ce la facciamo Abbiamo capito come fare Però Eh, sarà veramente dura Salva qui Attenzione all'onda energetica Abbassiamoci Ok Yes Sconfitto Mamma mia Pro Eh, utilizzate i salvataggi automatici Ragazzi Altrimenti ogni volta Sembra di cominciare Abbiamo sconfitto anche il conte Dracula E godiamoci adesso il filmato finale Sempre se c'è Ok E vabbè Sti cazzi A differenza dell'episodio precedente È stato anche molto più semplice Ah, già è finito così? Cioè io mi rompo il culo A fare tipo 8 gameplay Uno più difficile Delle altre E loro se ne escono sì Ma comunque Saltiamo questo Posso schippare Andiamo un pochettino avanti Skipperò io a modo mio Sì, sto schippando Utilizzando ragazzi La Modalità Dell'emonatore Che appunto Mi permette di schippare Più velocemente Per abbattere il castello Devi trovare il fantasma Di Shaft Cerca le stanze segrete E salva le ragazze Così avvicinerai Il fantasma di Shaft E quando Un attimino Bene ragazzi Abbiamo terminato Dracula X Cronergest Grazie per aver seguito questa serie Vi ringrazio veramente tantissimo Noi ci vediamo con la prossima serie Mi raccomando Continuate a seguirmi Condividete i video Se vi piacciono E lasciate anche un bel mi piace Un bel mi piace Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti